Certo che sarebbe davvero bello se esistesse l'uninstaller definitivo, in grado non solo di rimuovere i programmi, cosa che sanno fare tutti, magari anche tutti quanti i file accessori e le relative chiavi di registro ok, ma che fosse soprattutto in grado di gestire i programmi ostinati, di rimuovere il bloatware, di tracciare le installazioni in modo da sapere che cosa viene installato sul nostro computer e poterlo rimuovere all'occorrenza e magari, ciliegina sulla torta, anche di andare a rimuovere tutte quante quelle estensioni del browser che a volte facciamo fatica a gestire. Ebbene, la buona notizia è che questo programma esiste, anzi, sto per presentartelo. Non l'ho fatto ancora e mi scuso perché è circa un anno che sulla community mi viene chiesto di presentare questo software, semplicemente perché nutrivo nei confronti della casa che lo produce qualche riserva. Ma devo dire che ultimamente l'ho testato da cima a fondo e, a patto di essere un pochino accorti, come vedremo nell'installazione, ci ritroveremo tra le mani gratuitamente un programma fantastico che riesce a fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E allora andiamo a provarlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Prima di continuare con il nostro argomento del giorno ci tengo a fare un ringraziamento speciale. Ma come? I ringraziamenti non si fanno alla fine del video su questo canale? Ebbene sì, ma come capirai a brevissimo si tratta di un ringraziamento particolare che ci coinvolge tutti quanti. Va infatti ad Andrea Digital Expert che è un collega tecnico informatico ma anche e soprattutto un content creator che lavora su TikTok e che, se ne avrai voglia, ti invito a seguire. Cosa ha fatto Andrea? Ha preso spunto da uno dei nostri video ma ci ha tenuto davvero Gentiluomo Digitale a ringraziarci. E quindi andiamo rapidamente ad ascoltare il ringraziamento di Andrea perché, come detto, è rivolto a tutta quanta la community e quindi anche a te. Ci tengo a precisare che questo strumento l'ho conosciuto grazie al mitico Gentiluomo Digitale. Lo voglio nominare perché con la sua competenza perizia e soprattutto simpatia contribuisce ad aumentare le competenze informatiche per i meno esperti. Grazie infinite Andrea per la tua simpatia e noi continuiamo con il nostro argomento del giorno. Ed eccoci tornati nel nostro habitat naturale e quindi senza perdere neanche un altro secondo andiamo subito a procurarci questo fantastico programma. Per farlo apriamo il browser che preferiamo. Io utilizzerò Google Chrome e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale, come sempre. Effettuiamo la nostra ricerca e nei risultati andiamo ad aprire il primo, ovvero quello riferito al dominio Gentiluomo Digitale.it. Apriamo il sito e una volta aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Una volta che si sarà aperta la nostra pagina scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Iobit Uninstaller, oppure alternativamente potremo fare clic su questa lente di ingrandimento e nella barra di ricerca che si apre andremo a digitare sempre Iobit Uninstaller per trovare lo stesso identico risultato. Una volta che l'abbiamo individuato facciamo clic sul grosso pulsante azzurro File Download ed attendiamo qualche secondo che venga ultimato il download del nostro file. È appena un pochino più grosso del solito, infatti è un download di circa 27 megabyte. Facciamo clic sul file che abbiamo appena scaricato e si aprirà la cartella compressa che contiene il file di installazione del nostro programma. Fatto questo possiamo chiudere la finestra del browser retrostante e fare doppio clic sull'unico file presente all'interno della cartella compressa che si chiama appunto Iobit Uninstaller. Immediatamente parte l'installazione del nostro software e dovremo accettare premendo su sì che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. In breve si apre la finestra di installazione di Iobit Uninstaller che richiederà un attimo di attenzione. Infatti ti consiglio di togliere i segni di spunta da queste due voci. La prima si chiama installa itop data recovery e la seconda installa advanced system care o qualcosa del genere. Se dovessi comunque trovare dei segni di spunta attivi in basso a sinistra toglili tutti quanti. Clicchiamo quindi su installazione personalizzata e potremo lasciare generalmente tutte le opzioni esattamente come si trovano a meno che tu non voglia l'icona sul desktop oppure l'icona nella taskbar. In questo caso potrai disattivare la prima o la seconda voce. Io personalmente preferisco averle tutte quante attive. In particolar modo invece ti consiglio di tenere attiva la terza voce che abilita l'Iobit Uninstaller monitor che come vedremo tra un po' ci sarà parecchio utile. Clicchiamo sul pulsante installa e diciamo no grazie nel momento in cui ci viene richiesto di installare qualsiasi software accessorio. Clicchiamo quindi su avanti e attendiamo il termine dell'installazione. Ecco fatto il software è stato installato e a questa domanda ti suggerisco francamente di rispondere no grazie a meno che tu non ti voglia iscrivere a Iobit e ricevere le relative newsletter. Clicchiamo quindi su no grazie e possiamo lasciare invece il segno di spunta su esegui Iobit Uninstaller ora cliccando quindi sul pulsante fine. In questo modo come vedi si avvierà automaticamente il nostro programma ma prima di andare a guardarlo ci conviene chiudere la finestra retrostante che non ci serve più. Ed eccola la finestra principale di Iobit Uninstaller. Come vedi esiste in basso a destra un pulsante attiva ora. Non è necessario né pagare né attivare in alcun modo il programma se desideriamo come sto facendo io utilizzare la versione pre. ti basti sapere che comunque con l'attivazione vai a sbloccare un'altra serie di funzionalità aggiuntive che detto francamente possono servire come non servire. Questa sarà una tua valutazione. La prima cosa di cui possiamo usufruire è la classica funzione di Uninstaller per cui andiamo a selezionare un singolo programma cliccandoci su e possiamo cliccare sul pulsante disinstalla per andare a rimuoverlo. C'è poi successivamente la possibilità di selezionare più programmi insieme e andare a rimuoverli tutti quanti contemporaneamente. In questo caso ci basta anche cliccare sul pulsante disinstalla. Facciamo una prova. Come vedi ci viene subito chiesto se vogliamo creare un punto di ripristino prima di disinstallare cosa che ti consiglio sempre di fare non solo in questa occasione ma anche quando tu volessi apportare una qualsiasi modifica al tuo dispositivo. Ti viene chiesto anche se vuoi eliminare i file residui dopo la disinstallazione ed anche in questo caso il mio consiglio è di lasciare sempre spuntata anche questa casella. Clicchiamo su disinstalla e attendiamo il termine dell'operazione. Come vedi è possibile che alcuni programmi siano così insolenti da interrompermi mentre mangio le mie Pringles per chiedere conferma che vogliamo disinstallarli. In questo caso clicchiamo sempre su ok e torniamo alle nostre Pringles. Ecco fatto scusa mi pulisco le mani. Il programma ha terminato di disinstallare i software che gli abbiamo richiesto e a questo punto possiamo tranquillamente chiudere questa finestra e tornare alla finestra principale di questo programma per vedere le altre funzionalità che ci offre. Se guardiamo infatti sul lato sinistro abbiamo la voce Bundleware. Bundleware si riferisce ad eventuali programmi installati sul tuo computer che sono in grado di installare ulteriori programmi come dice lui stesso oltre al programma principale. Se ce ne fossero tramite questa voce possiamo fare pulizia. Abbiamo poi la voce programmi registrati che sono i programmi che come vedremo a breve l'install monitor ha monitorizzato e ci consente di rimuovere con maggiore accuratezza. Abbiamo la voce relativa ai programmi installati di recente che come vedi come anche era nella sezione tutti i programmi ci consente anche la rimozione di Microsoft Edge. Tuttavia c'è da dire che in alcuni casi i successivi aggiornamenti tendono a reinstallare purtroppo questo browser. Abbiamo la voce che ci consente di trovare i programmi più grandi più voluminosi quelli che occupano insomma più spazio su disco sul nostro computer ed andare naturalmente a rimuoverli. Ed ancora la voce che ci consente di individuare il software meno utilizzato sulla nostra macchina per poter fare un'ulteriore pulizia. Abbiamo poi la voce integrità software che ci consente di fare una scansione per andare a cercare una serie di voci che possono creare potenzialmente problemi al nostro computer. Ci basta cliccare sul pulsante scansione ora e ci verrà eventualmente richiesta la pulizia. Abbiamo poi la voce importantissima relativa al monitor delle installazioni. Quello che ti consiglio di fare è di andare ad attivare il monitor automatico. Questo andrà a verificare ogni volta che installiamo un nuovo programma. Tutte quante le operazioni che questo stesso programma compie sul nostro dispositivo in modo da andare a fare come abbiamo visto anche in precedenza una rimozione ancora più approfondita. Ma non basta. Questo software infatti sul lato sinistro ci dà anche la possibilità di gestire le estensioni presenti su tutti quanti i nostri browser e andare a disinstallarle direttamente di qui. Naturalmente queste possono essere suddivise anche per browser. Come vediamo qui infatti sulla mia macchina ci sono installati Chrome ed Edge. Se avessi anche Firefox, Opera e così via comparirebbero anche queste altre voci. Abbiamo quindi la voce app di Windows che ci consente di andare a snellire anche il bloatware presente eventualmente nella nostra versione di Windows. Anche in questo caso come sempre ci basterà selezionare ciò che vogliamo rimuovere e cliccare sul pulsante disinstalla. Ed infine abbiamo il cosiddetto centro azioni. Si tratta di un qualcosa che non esito a consigliarti di evitare come la peste perché cerca mille scuse per farti installare degli altri software che molto probabilmente non ti servono affatto. Indimenticabili i Blues Brothers ma una precisazione prima di concludere. Nella breve vita di questo canale abbiamo già esaminato alcuni uninstaller arrivando ad incoronare Revo uninstaller verso la fine dell'anno scorso come il miglior uninstaller in assoluto. Se ti fossi perso la recensione te la lascio qui in alto. Sarà opportuno operare una comparazione che io in parte ho già fatto tra i due uninstaller perché a mio avviso Revo mi sembra un pochino più profondo come tipo di disinstallazione rispetto ad iobit ma iobit offre per contro qualche funzionalità in più. Quindi bisogna vedere chi dei due sorpassa l'altro ma questa è una cosa che lascio alla tua valutazione. Sono certissimo che conoscerai molto bene il soggettino che ci ha appena salutati e che saprai dirmi nei commenti da che film è stato tratto ma questa è facilissima. E veniamo invece ai ringraziamenti del giorno che oggi vanno a Giovanni Telesca, Gianfranco Dell'Agli e Giovanni Tamburri per essersi abbonati al nostro canale. Ma in particolare un ulteriore specialissimo ringraziamento va a Benia Zan. Spero di averlo detto bene perché si è appena abbonato in qualità invece di distinto gentiluomo e quindi di fronte a lui non posso che levarmi il mio cappello farlocco. Ma altri due ringraziamenti non meno importanti vanno ad Alessandro Olmo e a Giù Stè per i loro generosissimi super grazie. Signori vi ringrazio tutti quanti indistintamente per il vostro supporto alla community ma soprattutto per la vostra partecipazione alla vita della stessa e per la vostra simpatia. Ma resta ancora un ultimo ringraziamento da fare importantissimo ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.